Ciao a tutti, non farò l'ice bucket challenge anche se sono stata taggata da Giulia, ciao patata qui in mi makeup perché sono indisposta e poi sinceramente non c'ho voglia, quindi dono direttamente salto gli step e quindi ho donato già direttamente fatelo anche voi, mi raccomando non perdete il significato di questo tag che è stato inventato apposta per questa cosa significativa taggo per adesso tre persone, poi se è nell'info box ne aggiungerò altre perché voglio fare la cattiva però taggo l'apo, non fashion beauty e la sindina, quindi mi raccomando fatelo anche voi e soprattutto donate un bacio a tutti, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!